Vigilia della commemorazione dei defunti ad Alcamo, oggi le prove generali per il nuovo assetto del traffico nella zona dei due cimiteri, previsto un grande afflusso di auto e pedoni nelle prossime 48 ore, attivati bus navetta e un punto di attesa per anziani e disabili gestito dalla protezione civile. Alcamo, Banca d'Orrizzo, decisa la lista di coloro che si conteneranno un posto nel Consiglio dell'Istituto di Credito, un solo candidato a presidente Sergio Amenta, già presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Prendeva di mira soprattutto abitazioni di anziani, un rapinatore seriale stato incastrato dalle immagini della videosorveglianza e finito in manette un 33enne a Valderice. Nove anni per Don Librizi, l'ex direttore della Caritas di Trapani, condannato per le violenze sui migranti, costretti a prestazioni sessuali per ottenere il permesso di soggiorno. L'ex prelato dovrà anche risarcire con migliaia di euro tutte le parti civili che si sono costituite in giudizio. Evasione del canone Rai, migliaia ai furbetti tra Alcamo e Castellammare del Golfo, in tanti evadono l'imposta sulla televisione pubblica, uno su tre ad Alcamo, quasi il 40% nella cittadina castellammarese. Sport, calcio di eccellenza, domani l'Alba Alcamo affronta Alcatella e il Cus Palermo, fischio d'inizio alle 15. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. Oggi apriamo parlando della commemorazione dei defunti ad Alcamo, le prove generali per il nuovo assetto del traffico nella zona dei due cimiteri. Previsto un grande afflusso di auto e pedoni nelle prossime 48 ore. Attivati bus navetta è un punto di attesa per anziani e disabili gestito dalla protezione civile. Senso unico tra le vie San Gaetano e Spirito Santo. Vigilia di commemorazione dei defunti di prove generali per il comando di polizia municipale ad Alcamo. Sono ore frenetiche queste in vista del grande afflusso previsto tra oggi e domani nei due cimiteri della città, l'uno distante dall'altro di qualche decina di metri tra la via Spirito Santo e la via San Gaetano. Una celebrazione molto sentita in una città dove il culto dei morti è radicato e la testimonianza è data anche ad Alcamo dall'utilizzo ancora della vecchissima tradizione dei monumenti sulle tombe. Già da giorni c'è una grande affluenza di gente qui ai cimiteri di Alcamo, in particolare questa vigilia. Tantissimi stanno portando ai propri cari i fiori, molti altri stanno proprio sistemando le tombe per garantirgli più decoro in vista delle prossime 48 ore. Il difficile verrà certamente domani con l'enorme affluenza prevista di pedoni ed auto, i caschi bianchi stanno comunque provando un assetto di per sé abbastanza collaudato che è quello oramai utilizzato per questa ricorrenza ogni anno. Consiste nel rendere operativo un senso unico di marcia che va dalla via Orto di Ballo, prosegue per via Spirito Santo, continua ancora con la via San Gaetano fino a raggiungere l'SP55, il senso unico di marcia è da città verso Alcamo Marina. Poi in particolare abbiamo visto due punti di sosta destinati esclusivamente ai portatori handicap muniti di apposito contrastegno, uno verso il primo cimitero e uno nelle vicinanze del secondo cimitero. In questi punti di sosta ci saranno dei bus navetta che collegheranno i due cimiteri della strada provinciale 55 confermata proprio all'ingresso. Proprio di fronte al cimitero nuovo, meglio conosciuto come secondo cimitero, la protezione civile con diverse altre associazioni di volontariato sta allestendo una tenda. Qui gli anziani e i portatori di handicap saranno assistiti e potranno sostare in attesa dell'arrivo proprio del bus navetta. Aspetteranno una navetta che partirà da questo punto e arriverà al cimitero qua sotto. Saranno due navette, un furgone portatore dei disabili con una pedanea automatica perché ogni anno c'è il problema e ci sono alcune in carrozzella quindi bisogna pure dare una dava aiuto a queste persone. E un'altra navetta, un bambino a 9 posti che faranno a despola da questo punto al punto del cimitero da sotto. Il consiglio della polizia municipale è di evitare domani e il 2 novembre di utilizzare l'auto se non per gli spostamenti strettamente necessari. In questa giornata di prove generali per verificare la tenuta del traffico i caschi bianchi hanno potuto notare l'assoluto rispetto dei divieti da parte degli automobilisti. C'è un'attenta collaborazione anche per i cittadini, molti vengono a piedi se non hanno dei problemi di demolazione e quindi anche con l'aiuto dei bus navetta questo ci aiuta affinché il numero di autoveicoli sia minore. Finanziamento di 250 mila euro per i porti di Marettimo e Favignana è stato stanziato dalla regione nell'ambito del piano degli interventi urgenti di protezione civile per i danneggiamenti causati dal maltempo che si è abbattuto dal 16 febbraio al 10 aprile che ha coinvolto oltre alla provincia di Trapani anche quella di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Messina. Il finanziamento fa seguito alla presentazione di una scheda dettagliata predisposta dal vice sindaco con delega alla protezione civile Enzo Bevilacqua in collaborazione con il dipartimento di protezione civile provinciale in cui erano elencati i danni causati dalle mareggiate e i necessari interventi da attuare per riparare gli stessi. Nel dettaglio tale somma destinata al molo San Leonardo a Favignana e al molo Scallo Nuovo a Marettimo sarà utile al ripristino della funzionalità delle banchine con interventi di riparazione del molo sottoflutto danneggiato e al ripristino funzionale della banchina a Marettimo compresa la riparazione della torre Faro danneggiata sul molo Leonardo. E torniamo ad Alcamo. Parliamo della banca ad Orrizzo. Decisa la lista di coloro che si contenderanno un posto nel consiglio dell'istituto di credito, un solo candidato a presidente, si tratta di Sergio Amenta, già presidente del collegio dei revisori dei conti. Elezioni dei nuovi organi sociali alla banca ad Orrizzo di Alcamo. Il fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo ha espresso il gradimento su candidature ed è stato quindi predisposto l'elenco e quindi la lista di coloro i quali il prossimo 8 novembre si contenderanno un posto nella governance della banca. Una sola, la lista dei candidati, per i quali sono chiamati a votare gli oltre 3.000 soci dell'istituto di credito fondato nel 1902 dal sacerdote Don Giuseppe Perrizzo. Questa la lista. Presidente del consiglio di amministrazione Sergio Amenta, consiglieri Andrea Aiello, gli avvocati alcamesi Giuseppe Benenate e Isabella Catalano, Saverio Camilleri, Nicola Colabella, Bernardo della Catenella Oran, Nino Palermo. Presidente del collegio sindacale Antonino Pugliese. Sindaci effettivi in corsa sono Vincenzo D'Angelo, Vincenzo Eterno, Maria Italiano, Giuseppe Mazzara, Giorgio Motisi, Francesco Palermo e Alessandro Polizzotto. Resta invariato l'ordine del giorno. 8 punti tra i quali elezione del presidente del consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni, stessa cosa per l'elezione dei quattro componenti del consiglio di amministrazione, elezione del presidente del collegio sindacale designato dal fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo e dei sindaci effettivi. Se non ci sono intoppi, ovvero ricorso da qualche escluso che aveva presentato il curriculum per la candidatura, il nuovo consiglio dovrebbe essere letto il prossimo 8 novembre. Momenti di panico per due giovani di Marsala rapinati in casa da tre malviventi. Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per rapina gravata in concorso Vincenzo Parisi ed Emanuele Girone, entrambi di 25 anni, e Mustafa Annun di 26. I tre giovani armati di coltello si sono introdotti in un'abitazione di contrada a Ciancio, intimando ai due ragazzi di 28 e 25 anni che in quel momento stavano guardando la televisione di consegnare loro tutti i soldi e i monili in oro, il loro possesso. Non soddisfatti del bottino, i tre hanno portato via anche un computer portatile, due fotocamere, la tv e strappato via il telefono cellulare dalle mani della giovane. Poi hanno rinchiuso nel bagno i malcapitati e sono fuggiti. Nonostante l'agitazione, il ragazzo è riuscito però ad uscire dalla finestra del bagno e a lanciare l'allarme ai carabinieri della locale compagnia che hanno fatto scattare subito le ricerche. I tre fuggitivi, bloccati poco dopo, sono stati sottoposti ai arresti domiciliari in attesa della convalida. E parliamo ancora di rapine. Prendeva di mira soprattutto abitazioni di anziani. Un rapinatore seriale è stato incastrato dalle immagini della video sorveglianza. È finito in manette un 33enne a Valderice, ancora ignoti però i complici. Furti e rapine compiuti con una frequenza ormai quasi quotidiana. È stato dato un nome ad uno dei presunti autori dell'escalation di reati commessi in rapida successione nell'ultimo periodo a Valderice. I militari della compagnia carabinieri di Trapani hanno arrestato Giovanni Salafia, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti. L'indagine è partita a seguito della prima rapina commessa il 23 settembre in località Lentina. Due malviventi con il volto travisato con il favore dell'oscurità portarono via diversi oggetti in oro dall'abitazione di due anziani coniugi. Le vittime, svegliate dai rumori, sorpresero i malviventi che riuscirono a fuggire. La seconda rapina avvenne a distanza di alcuni giorni, più precisamente nella notte a cavallo tra il 9 e il 10 ottobre a Casalbianco. Anche in questo caso i rapinatori incappucciati e armati di coltello fecero irruzione in una casa ma non si aspettavano di trovare i proprietari ancora svegli. Avevano dovuto spintonarli e minacciarli per farsi consegnare il portafogli. Immediate sono partite le indagini dei carabinieri della stazione di Valderice che, grazie alle informazioni fornite dalle vittime e da alcuni testimoni e dopo aver passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nelle zone interessate, hanno notato nei luoghi e nelle ore delle rapine la presenza di una smart di colore scuro. Nel secondo caso l'attenzione degli investigatori è stata attirata da un secondo veicolo sospetto che passava di fronte ad una delle abitazioni prese di mira, i cui occupanti erano probabilmente impegnati in una ricognizione. Gli investigatori hanno potuto così stringere il cerchio nei confronti di Giovanni Salafia, soprattutto dopo aver raccolto altri elementi emersi da un'ennesima rapina commessa ai danni di un anziano, sempre a Valderice, con un complice ancora in fase di completa identificazione. In questa occasione il proprietario di casa, sotto la minaccia di un coltello, aveva consegnato il portafogli ed una catenina in oro. Tutto documentato dalle telecamere a circuito chiuso, poste nelle vicinanze dell'immobile, come è avvenuto anche domenica pomeriggio, quando Salafia è stato ripreso a bordo di una smart di colore scuro mentre metteva a segno un altro colpo in una casa, rubando vari oggetti in argento. I militari dell'arma, durante l'indagine, oltre alle tre rapine e danni di anziani commesse anche a mano armata, hanno scoperto anche otto furti in abitazioni di Valderice avvenute negli ultimi due mesi. La Procura della Repubblica di Trapani, accogliendo le risultanze investigative, ha emanato un decreto a firma dei sostituti Rossana Penna e Anna Trinchillo per il fermo di indiziato di delitto nei confronti dell'uomo, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere San Giuliano di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria.